Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di oggi, siamo tornati su Clash Royale perché oggi proviamo a evocare una quantità di stregoni elettrici incredibile il punto è arrivare a 100 videoclip veramente epiche mi raccomando un bel mi piace, che cosa succede se evochiamo 100 stregoni elettrici allora vi faccio vedere, ho fatto alcune partite, ho provato un po' ad evocare alcuni stregoni vi faccio vedere com'è andata diciamo, la prima è stata questa qua prima partita che ho fatto, vediamo com'era andata all'inizio come funzionano ste cose, devi puntare a spaccare male ste due torri e queste due torri qua, ok, quindi mandiamo anche un po' avanti abbastanza rapidamente, non ci interessa sono partito con gli stregoni elettrici, ho volato un veramente cazzotissimo è straforzo il stregone elettrico, molto molto forte anche perché avevo, ecco il gigante, stessa cosa, te lo massacra male lui punta a distruggermi come al solito anche le altre due torri e qua ci siamo iniziamo a mettere estrattori partiamo dal primo estrattore secondo estrattore, così e così via lui ovviamente, eccoci qua, perfetto questa è la conformazione migliore io estrattore a sinistra, lui estrattore è alla mia sinistra sempre parlo dalla mia visuale quindi sempre estrattore a sinistra a destra andremo a mettere gli stregoni elettrici noi e il nostro avversario dovrebbe mettere lapidi e giganti per favorire appunto un... il corretto numero di cose cioè riuscirà a mettere appunto più stregonettrici possibile perché gli scheletri te li tengono fermi, no? gli stregoni loro li massacrano, li uccidono, li fanno avvicinare però in tutti i casi te li tengono dietro e quindi questo era quanto, nel senso andiamo ancora un po' avanti fino a che non arriva fino a che non inizio a mettere gli stregoni ecco da qua, poi avevo un botto di elisir veramente, veramente tanto lui aveva meno elisir di me perché io guardavo quanti estrattori ho attualmente 4, 4, 8, lui ce ne ha soltanto 4 io produco, cioè molto di più rispetto a lui infatti si è trovato molto in difficoltà all'inizio 3 stregoni 4, 5 6 stregoni adesso li contiamo, sono circa 6 6, 12 beh, già 12 non è andata male poi non so se lo risclono 12, 13 vediamo un po', eh, se qualcuno muore attualmente siamo sempre a 13 poi ne ho clonati altri 7 13, 20 20 e altri clonando gli altri 7 27 stregoni la prima volta non era andata male oddio figo tanta roba, cazzo va bene, sì esatto tanta roba ci piace cioè me era piaciuta l'idea e va bene e dopo di che questa non è andata benissimo non siamo riusciti a evocare tanti stregoni ancora meno a 27 non ci erano arrivati e poi dice ok ma forse è il caso ringrazio ovviamente tutto il clan Kla, Kratos 4316 Holmes che mi ha dato anche una mano su come fare il deck insomma tutti questi ragazzuoli che ci hanno davvero aiutato nel arrivare al risultato finale che è veramente una cosa epica con ste cloni giuro hanno tirato giù il mondo il mondo è venuto fuori il suo deck era tanta roba perché c'era il gigante che gli dava una grande mano gli stregoni ben o male erano tutti simili apparentemente uguali no pressoché davvero tutti uguali però il gigante il gigante aiuta un sacco perché ok che lo massacrava in 30 secondi però la cosa interessante era che riusciva bene o male a fare a fare parecchia strada e tenere le truppe ferme stesso discorso qua ci abbiamo messo un po' a spaccare tutte le cose le varie cose perché io non trovavo all'inizio non riuscivo a trovare il mio coso la combo stregone stregone e furia cioè ci ho messo un po' è andata giù subito la torre ovviamente la prima perché poi te lo zappa pure cioè ti dà la zappa quindi ti ferma la torre è fortissimo stregone elettrico e qui ok abbiamo spaccato malissimo anche quella io finisco di spaccare quella e si parte stavolta stregone a sinistra estrattori a destra continuiamo qua continuo a mettere roba finché continuiamo ad andare avanti molto veloce finché non arrivo ecco qua ero in crisi perché guardate già con quattro lapidi guardate antischeletrini ci sono che dà un fastidio io ero indietro con gli estrattori dell'isir ero favoreatamente indietro qua ho recuperato perché lui ovviamente metteva anche altra roba ho dovuto mettere uno stregone elettrico per evitare il casino ecco qua iniziano a mettere gli stregoni e da qua inizia il delirio guardate questa è forse la parte un po' più difficile ci sono quattro stronzetti eh quattro uno poi muore siamo a tre li duplico sei mi serviva più forza sette e poi c'è l'ottavo eccolo qua e da lì poi inizia il casino perché io calcolate che mettevo la furia la furia la clone lo coso lo stregone poi ho iniziato a specchiare la clone quando sono stati parecchi iniziava a specchiare la clone cosa che è stata veramente fondamentale ecco qua già eravamo che ne so più di 25 no non so forse 25 no però vi giuro alla fine sono stati una quantità infinita fortuna lui è stato bravo a mettere il gigante là per fermarli clone specchio la clone ancora tac guardate quanti sono non è finita perché poi riesco a fare addirittura un altro giro altri due calcolate che ecco qua altra clone vai così vai con la clone altra clone adesso rispecchio la clone e guardate quanti sono cioè ma guardate quanti sono guardate quanti sono una quantità di stregoni elettrici incredibile per giuro è venuto giù il mondo veramente eccezionale aveva gasato tantissimo sta cosa non sono riuscito che a specchiare la clone perché ovviamente la torre era andata ma saranno stati davvero un centinaio secondo me di stregoni cioè ma guardate quanti sono guardate quanti sono no io non ne ho la più palli di idee però vi giuro secondo me in centinaio le abbiamo fatti veramente veramente video epico mi è piaciuto un botto ringrazio davvero tantissimo il clan che mi dà sempre la mano a fare sti video spero che il video vi vi piaccia in tutti i casi questo è il deck che ho utilizzato io questo è il deck che hanno utilizzato loro se volete copiarli e provare anche voi a fare una roba del genere provateci va bene ragazzoli spero che per questo video possa essere tutto vi ringrazio tantissimo per la visione lasciare mi piace se vi è piaciuto iscrivervi al canale se avete fatto e telegram diciamo come al solito a un prossimo video ciao a tutti ragazzi